Quante volte abbiamo sentito questo detto? Deriva dal Vangelo di Luca che ci mostra la superbia e l'odio che porterà Gesù a morire, così come Eliseo. Gesù si è sempre preoccupato di salvare chi fosse disposto ad accoglierlo nel suo cuore. Da questo Vangelo scaturiscono tante domande da affrontare con noi stessi. Per esempio, ci siamo preparati ad accogliere Gesù? Permettiamo allo Spirito Santo di purificarci affinché questo accada o siamo superficiali sulla questione? Ecco, l'obiettivo che oggi ti pongo è quello di prenderti cura di qualcosa, di una pianta per esempio. Presta lì la stessa attenzione che presteresti alla cura di te stesso o di un tuo caro, affinché possa crescere sana, senza erbacce, nel giusto spazio, insomma che possa poi diventare una fonte di vita, con le sue radici ben salde a terra ma i rami in il cielo. E mi raccomando, perché se sei troppo superficiale non crescerà come deve. Buona fortuna!